A latri, nella porta della fertilità, è scritta la regola universale della maternità. I falli sull'architrave. Nove gradoni, come i mesi di gestazione. Il bambino concepito nei solstizi, quando il sole illumina solo il primo gradone, nascerà negli equinozzi. Quando il sole attraversa tutta la porta, il bambino concepito negli equinozzi nascerà nei solstizi. Esaminiamo più nel dettaglio. Immaginiamo la porta minore come un cronografo della gravidanza. Nel rettangolo in alto a destra, il trascorrere delle lunazioni. In basso a destra, la sezione della porta minore e il progressivo percorso del sole nei nove mesi. La lancetta gialla segna i mesi e le stagioni. La lancetta arancione segna il numero delle lunazioni. Equinozio di primavera. Solstizio d'estate. Equinozio d'autunno. Al termine della non-alunazione, nasce il bambino. La lancetta gialla segna i mesi e le stagioni.